Per un minuto di Storia con Mario, oggi parliamo del 24 agosto di un anno del secolo scorso, indovinate quale? Sì, un pochino forse ve lo ricordate, quell'estate così strana, il 1991. Il 24 agosto 1991 Mikhail Gorbachev si dimette definitivamente da segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il Partito Comunista architrave del sistema sovietico evidentemente, con annessi tutti i paesi dell'Europa orientale che ormai avevano rotto il patto di Varsavia, c'è la rivoluzione, Boris Yeltsin, vi ricordate sicuramente le scene dei carri armati, quelle revisioni segnano l'inizio della fine dell'Unione Sovietica che quattro mesi dopo ammainerà la bandiera con la faccia e martello dal Cremlino a Mosca, è la fine dell'URSS.